Il viso è appeso alle lancette del cronometro, Balmain veste la maglia rosa conquistata in slittera, ma sul passo c'è qualcuno più forte di lui, cheppure è irregolarissimo per antonomasia, forse il più completo campione del ciclismo italiano. Oggi però è il gran giorno di Adorni, l'elegante atleta della squadra Cinarra è scatenato. ...del giro il vertice tecnico. Spettacolo di forze di stile, egli realizza sui 56 km del percorso la media di km 47 e 323. In questo modo Adorni batte il suo compagno di squadra Baldini, vittima di una caduta, e giunge a sfiorare la maglia rosa che è tornata per soli due secondi sulle spalle di Ronchini. Si ritorna ai monti.